La frangia lunga scalata ai lati può rivelarsi una buona soluzione quando si tratta di scegliere quale tipo di frangia abbinare al proprio taglio di capelli. Il consiglio è quello di confrontarsi con il proprio parrucchiere per decidere insieme come procedere per una frangia che sia davvero tagliata su misura, ovvero in grado di adattarsi in modo ottimale sia al taglio di capelli scelto, sia alla forma del viso. La frangia lunga scalata ai lati potenzialmente sa stare bene davvero a chiunque ed è capace di abbinarsi alla perfezione sia ad haircut lunghi e di media lunghezza, sia ad haircut corti. Per quanto concerne l'effettiva lunghezza della frangia, il confronto con il parrucchiere sarà utile a portare alla luce le vostre esigenze in fatto di stile, oltre che il modo migliore per valorizzare il vostro sguardo attraverso una frangia in movimento, lunga e scalata ai lati. Come fare una frangia lunga scalata? La frangia lunga scalata ai lati oltre ad abbinarsi ottimamente a tagli di capelli lunghi, medi e corti, si adatta bene a capelli lisci, mossi e ricci. Tuttavia, si tratta questa di una frangia che in linea generale poco si presta a essere realizzata da sé, per evitare risultati non in linea con quelli attesi. Il consiglio è quello di rivolgersi al parrucchiere, che saprà realizzare la frangia lunga scalata ai lati in modo da non deludere le nostre aspettative. Capelli lunghi con frangia scalata, tips di stile. Gli haircut lunghi, anche quelli lunghissimi, possono risultare molto ben valorizzati da una frangia lunga scalata ai lati. In particolare, questo tipo di frangia presenta tra i suoi pro il fatto non solo di saper mettere in evidenza lo sguardo, ma anche, quello di essere in grado di costituire una vera e propria cornice per il volto. Consigliamo questo tipo di frangia in particolare a chi desidera sfoggiare un taglio di capelli molto lungo ma non vuole rinunciare a donare alla propria chiome un po' di movimento. A questo proposito può rivelarsi una buona scelta optare per una frangia lunga non solo scalata ai lati, ma anche sfilata al centro. D'altra parte, anche una frangia lunga scalata ai lati ma più compatta può costituire un'ottima soluzione nel caso in cui l'obiettivo sia quello di caratterizzare il proprio taglio di capelli con una frangia lunga. Se la frangia sfilata crea movimento, la sua versione leggermente più compatta conferisce alla chioma uno stile che ricorda quello. Degli haircut geometrici, supergrafici, effetto stemperato dal fatto che si tratta questa di una frangia scalata ai lati. In tema di frangia scalata su haircut lunghi, apriamo un breve capitolo interamente dedicato a una frangia in particolare, ovvero la frangetta a tendina. Si tratta questa di una frangetta che consente di conferire ai propri capelli un tocco di stile vintage, ricordate la frangia iconica di Brigitte Bardot? Dal mood estremamente contemporaneo. In particolare, questa frangia lunga aperta è consigliata a chi proprio lo stile vintage ama e per questo desidera integrarlo nella air look. Frangia lunga scalata ai lati ed haircut di media lunghezza. Clavicut e lob risultano valorizzati da una frangia lunga scalata ai lati? Assolutamente sì. In particolare, essa può costituire la soluzione ideale per chi desidera conferire al proprio haircut di media lunghezza un tocco di stile in più. Clavicut e lob sono haircut molto versatili poiché possono essere realizzati in numerosi modi per ottenere look di volta in volta diversi. Ad esempio possono essere interpretati in qualità di tagli scalati, dalle asimmetrie decise, oppure pari e grafici, contraddistinti da linee pulite. Qualunque sia la scelta di stile a riguardo, una frangia può banabbinarsi a entrambi questi haircut, e tra le tipologie di frangia che è possibile prendere in considerazione figura anche la protagonista del nostro articolo. In particolare, la frangia lunga scalata ai lati consente di incorniciare il volto. Tra i suoi pro, il fatto che può costituire per così dire l'accessorio perfetto sia di un haircut lungo fino alla clavicola, sia di un taglio più corto. Il risultato di movimento è pienezza, da mettere a punto sfilando la frangia in modo più o meno netto a seconda del risultato desiderato. Conferisce ulteriore carattere ai tagli di lunghezza media, pratici e versatili. Una frangia che dunque costituisce un'ottima alternativa al classico ciuffo frangia, grande amico del caschetto, e alla frangia a tendina laterale. Frangia lunga scalata ai lati con haircut corti. Abbiamo parlato di haircut lunghi e di haircut di media lunghezza, ma non possiamo certo non menzionare anche gli haircut corti quando si parla di tagli di capelli ai quali la frangia lunga scalata ai lati sa abbinarsi ottimamente. Proprio così, una frangia scalata ai lati, perché no sfilata, può valorizzare il viso incorniciandolo. In più, una frangia lunga consente per così dire di ammorbidire un taglio corto deciso, conferendogli grintoso movimento.